Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival, la grande festa del cinema indipendente internazionale. Tre grandi eventi ad ingresso gratuito. 4 novembre, Notte Horror. 5 novembre, Cortometraggi. 6 novembre, Videoclip, Animazione e Documentari. Dal 4 al 6 novembre, Voghera Film Festival 2016, al The Space Cinema di Montebello della Battaglia. Inizio proiezioni, ore 21. Buongiorno a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Tutto è iniziato ad agosto in South Carolina a Greenville. Un bambino che torna a casa di corsa raccontando la madre di due uomini vestiti da clown che avevano provato da tirarlo nel bosco. Da lì decine di avvistamenti, allarmi, scuole chiuse e avvertimenti della polizia. Come nel film di Stephen King, It, i pagliacci fanno paura. Criminali che si travestono e ne approfittano per commettere reati anche molto gravi. Cosa ne pensa di questo fenomeno che tra l'altro si sta diffondendo anche in Europa? Che dire, è una cosa imbarazzante perché sono notizie che ti lasciano un po' la mare in bocca per dire approfittare dei bambini con cose così subitole non mi sembra che sia la cosa migliore. Però d'altra parte non è facile combatterle se non soltanto divulgando queste notizie e mettere l'allarme un po' generale su tutti gli ambienti. La follia, la follia. Secondo lei che cosa porta le persone ad approfittare di questa maschera per poter poi commettere dei reati? Cioè arrivare a pensare addirittura di travestirsi per commettere dei reati? Vigliaccheria, follia, mancanza assoluta della minima cognizione di quello che può capitare e la scarsissima abilità di mettere in moto il cervello. Mi sembra la solita scamotagia per terrorizzare le persone. Forse anche io sono per la libertà di stampa, di notizie eccetera, ma forse certe notizie non andrebbero così divulgate perché non sai fino a che punto le persone possono essere indotte ad imitare, per imitazione insomma. Mi viene da pensare questo. Quindi lei dice che il fatto che comunque venga diffusa questa notizia porta anche le persone a scoprirla. Sì a scoprirla, poi magari qualcuno non lo fa con cattiva intenzione, magari lo fa per spaventare l'amico, per creare, insomma mi sembrano un po' come Stephen King, mi sovviene questa cosa insomma. Famosissimo film. Famosissimo film e quindi non lo so, siccome ormai tutti cerchiamo di imitare tutti, finché sono... e nelle cose positive siamo meno solerti ad imitare, ma nelle cose negative... Addirittura qualcuno adesso propone di aumentare i controlli in vista di Halloween perché è naturale che si possono venire a creare addirittura dei fraintendimenti. Diciamo che probabilmente sono delle cose primarie rispetto a queste, comunque un minimo di controllo ci dovrebbe essere sicuramente. Se lei avesse o magari ha dei nipoti o dei figli li metterebbe in allarme proprio per questo motivo? Sicuramente sì, dare un'informazione ai bimbi va fatto da parte dei genitori, da parte dei più vicini se non altro. Può essere, può essere. Lei è favorevole al fatto che aumentino i controlli? Assolutamente sì, controlli e attenzione da parte di tutti quanti, guardarsi sempre alle spalle e attorno, senz'altro sì, la follia. Ma io penso che forse sia anche esagerato, non lo so, non lo so. Mi sembra che sia un modo anche per terrorizzare ancora di più. Adesso però non lo so, magari se mi fosse capitato una cosa del genere probabilmente anche io direi che bisogna controllare di più. Ma qui a questo punto, non so, andiamo a vivere tutti su un'isola deserta o ci trinceriamo, che so, facciamo delle case bunker, no? Non, sinceramente, adesso voi mi avete preso un po' alla sprovvista, sono tutte però, tutti i pensieri che mi vengono anche sentendo la televisione, cioè abbiamo l'abitudine di cavalcare ogni cosa in modo, secondo me, esagerato. Potrebbe essere che si vuole anche spostare l'attenzione da altri argomenti? Ma potrebbe anche essere quello, cose che magari sono difficili da risolvere, però si potrebbero anche risolvere. Io adesso parlo di una cosa che non c'entra niente con la domanda che mi avete fatto, ma circa anche l'immigrazione. Io penso che una cosa che forse spaventa tante persone è il fatto che è mal gestita. Perché io sono convintissima, se i numeri sono quelli che davvero ci vengono detti, propinati, noi siamo 60 milioni di abitanti, facciamo per paese, eccetera. Io credo che sarebbe una cosa di cui neanche avverti la presenza, se fossero ben distribuiti e poi, secondo me, non lasciati così, le persone che non hanno un lavoro, che non hanno uno scopo, che siano immigrati, che siano italiani, che siano quello... Secondo me si annoiano, non hanno pensieri positivi. Comincia a farli studiare, incomincia a dire quali sono le regole per vivere nel nostro paese, come se noi dovessimo andare a vivere in un paese straniero, dobbiamo seguire queste regole. E io credo che anche lì sia un modo per gonfiare, gonfiare, gonfiare il problema, che esiste, però, secondo me, mal gestito.